E' già partita da alcuni giorni la campagna di vaccinazione anti-influenzale promossa dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. E' stato lo stesso commissario Gervasio Venuti a lanciare la campagna 2018-2019 facendosi vaccinare assieme al direttore del servizio di epidemiologia dell'ASP, Gaetano Geraci. Le vaccinazioni, come è noto, possono essere effettuate presso gli studi dei medici di famiglia e dei pediatri, oltre che in tutti i presidi vaccinali dell'azienda. Il servizio che si protrae fino a febbraio è gratuito per chi ha compiuto i 65 anni e per i soggetti a rischio, ossia adulti e bambini con patologie croniche o a contatto con altri soggetti che potrebbero costituire fonte di infezione da virus. Santina Matalone ne ha parlato con il medico di famiglia Filippo Alessi. E' una vaccinazione offerta gratuitamente dall'ASP ed è una vaccinazione che è molto richiesta soprattutto dagli anziani perché comprendono come una influenza che per una persona di età adulta o comunque di età giovane è una condizione abbastanza banale che si risolve in 4, 5, 6 giorni di febbre. Nell'anziano può essere talvolta complicata da una sovrinfezione batterica e in quel caso serve l'antibiotico e può causare danni importanti o situazioni assai serie che addirittura talvolta richiedono l'ospedalizzazione. Vaccinarsi contro l'influenza riduce fortissimamente la possibilità di avere questo tipo di complicanze e soprattutto riduce l'ospedalizzazione. Le giornate di ospedale legate all'influenza sono molto minori. E quindi evidentemente anche le spese di tipo sanitario. Ed a proposito di prevenzione, il 18 novembre ricorre la giornata europea degli antibiotici che è come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antibiotici e dall'uso prudente degli antibiotici stessi. Iniziativa che si inserisce nella settimana mondiale sul tema. La giornata europea dell'antibiotico nasce nell'ambito di una settimana mondiale che è stata indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono ormai 11 anni che c'è questa settimana dell'antibiotico e questa giornata europea dell'antibiotico. Ed è una settimana che è dedicata a una campagna di sensibilizzazione per un uso corretto, per un uso appropriato degli antibiotici da parte della popolazione generale. È un argomento estremamente importante perché l'uso inappropriato può causare delle difficoltà e dei problemi nella cura e quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità intende sensibilizzare tutta la popolazione. Infatti è una settimana nella quale viene richiesto a tutte le componenti mediche di fare una campagna diretta verso la popolazione generale e non rigorosamente ristretta agli ambiti professionali.